Forse inaspettatamente siete riusciti a espugnare lo Stefano Rizzo, non vincevate dal 5 gennaio e è arrivato questo successo che vi dà speranza di salvezza. Sì, venivamo da un periodo molto negativo. Io ho preso una squadra che era sfilacciata perché fra le altre cose sono andati via sei dei titolari e sto lavorando con una squadra, se voi siete stati un po' attenti, molto giovani come la vostra d'altra parte e stiamo lavorando cercando di raccogliere quello che riusciremo a raccogliere da qui fino alla fine sperando di non arrivare almeno ultimi. E oggi è stato fatto comunque un bel passo in avanti in classifica diciamo con questa vittoria, aspettando domani ovviamente. Sì, siamo arrivati 19 punti e quindi abbiamo la possibilità ancora di giocare per questa salvezza. Se avessimo perso probabilmente avremmo chiuso qui oggi la possibilità di giocarci queste ultime partite. Però io spero che i ragazzi da questo spunto di oggi riescano ad andare avanti e cercare di fare il più alto numero di punti da qui fino alla fine. Battuto il Sambiase, l'ultima interna, oggi perso contro l'Apriliano. Diciamo che passiamo da una grande vittoria a una sconvitta che sorprende tutti. Sì, è l'imprevedibilità del calcio. Riusciamo a battere la prima della classe e poi perdiamo contro l'ultima della classe. Questo è il bello del calcio. Purtroppo non siamo mai scesi in partita, non siamo mai scesi in campo. Siamo stati timidi, i contratti non siamo riusciti a desperdare il buon gioco che avevamo fatto contro il Sambiase anche domenica scorsa a Cassano. Siamo stati timidi, eravamo imbottiti di giovani però siamo stati timidi. Non era la stessa squadra che ho visto contro il Sambiase e a Cassano. Poi più passa il tempo più ti nervosisci. Poi quando si ci mette che non riesci a fare gol, nelle uniche palle gol che vai a costruire, alla fine arriva la beffa. Questo è il calcio. Scalise e Federico sono partiti in panchina, come mai? Allora Scalise ha avuto in settimana l'influenza, mentre Federico è da un po' che sta accusando un fastidio muscolare. Non al meglio? Non al meglio. Ho preferito riconfermare la partita che avevano fatto tutti per intero domenica a Cassano perché anche se il pareggio è arrivato negli ultimi minuti per quanto mi riguarda è stata una grande prestazione fatta fuori casa. Abbiamo ottenuto un grosso punto e oggi mi sembrava giusto dare l'opportunità a chi a Cassano, sempre imbottiti di giovani, era venuto a ottenere questo punto. Non ci siamo riusciti perché, ripeto, forse la ansia, magari non lo so, il primo caldo ci ha giocato un po' contro e quindi non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. È arrivata questa sconvita, ci rimboccheremo le mani, penseremo subito a domenica prossima perché da qui alla fine le stavano partite ancora delicate e difficili. Punteremo a fare ancora punti perché sicuramente far punti fa sempre bene, quindi da qui alla fine cercheremo di fare il massimo.